Io invece ringrazio voi per lo spazio, per la presenza e anche perché mi avete permesso, ci avete permesso di comunicare comunque un'isola che ha ancora bisogno di essere comunicata per capire che è veramente qualcosa di unico nel panorama mondiale per quanto riguarda il room. E insomma è stato anche il momento migliore per comunicare che si riparte anche con room room, quindi per tutti voi sarà comunque da adesso un conto alla rovescia, l'attesa è tanta, però siamo pronti, i motori sono caldi. Sperancia a Timichere nei prossimi passi su room room. Beh allora, sicuramente qui al mese prossimo avremo delle prove di distillazione, quindi non abbiamo ancora ben deciso cosa, ma insomma canna da zucchero misto non ce l'ha. E poi per niente, per gennaio si parte a pieno, è già stata fatta una selezione, se vogliamo, per il prossimo Liberation 2023. Ecco, quindi prossimamente queste novità saranno… Prossimamente berrete bene ancora. Prossimamente… Grazie a tutti.